Musica Musica Mi devo parlare di questa nuova metodica nuova relativamente perché l'elettrovolazione è una cosa che esiste da oltre 40 anni forse più ed è un sistema con cui si producono delle alterazioni cellulari che consentono il passaggio all'interno delle cellule, macromolecole o comunque molecole che non interrebbero o interrebbero molto poco attraverso una membrana cellulare in un'intera e oppure l'alterazione della membrana cellulare in alternativa quando molto avanzata, quando l'intensità del processo di elettrovolazione è spinto molto più avanti può determinare il morte cellulare come ha detto che l'alternazione irreversibile dell'opera quindi l'elettrovolazione irreversibile è proprio quest'ultima evidenza in cui noi attraverso delle scariche elettriche ad altissimo voltaggio e di una durata di microsecondi produciamo queste alterazioni non scompaginiamo, non distruggiamo ma sono delle alterazioni veramente di tipo biochimico e fisico a livello della membrana cellulare per cui succedono questi processi di alterazioni ioniche sia nel citoplasma sia nell'ambiente intorno alle cellule questo si può tenere infiggendo a fondo degli elettrodi e creato un campo elettrico nel quale le cellule sono immerse e nel caso dell'opera del vestibile noi distruggiamo completamente vedete qui che ho ottenuto la cosa attraverso l'infinzione di elettrodi per via la parotomica ma è possibile realizzare la stessa cosa anche per via percutanea come vedremo per capire la differenza fra l'elettrovolazione e l'ablazione a me piace sempre mostrare questo tipo di aspetto se immaginiamo che questo è un tessuto e la popolazione che vive in queste strutture e sono le cellule mentre i palazzi e le strade sono lo stroma cioè praticamente l'impalcatura connettivale che legge le cellule con l'elettrovolazione, con la termoablazione che cosa realizziamo? realizziamo questo praticamente operiamo la distruzione completa dello stroma e delle cellule nel nostro tessuto il che significa che non recuperiamo poi una struttura che invece potrebbe servire alla ripopolazione invece l'elettrovolazione realizza qualcosa del genere desertifica dalle cellule in un certo senso per l'elettrovolazione delle cellule una volta pese non più vitali da parte del sistema immunitario per poi avere l'opportunità di poter ripopolare lo stroma quindi abbiamo che attraverso questo sistema abbiamo l'elettrovolazione irreversibile come abbiamo detto per un danno permanente l'elettrovolazione irreversibile per un danno parziale ma che cosa ci serve l'elettrovolazione? se le cellule poi si riparano perché praticamente se noi realizziamo soltanto questo le cellule si riparano, il tumore sta sempre lì di tale anche se ha subito un danno transitorico e non è così quella sensazione che l'elettrovolazione irreversibile con il danno transitorio della mandorata scimulare ci consente di infondere per via sistemica quindi una vena periferica in modo quindi molto semplice ed è stato provato che funziona molto meglio così che inovulando direttamente sono stati diversi testi, diversi studi somministrando il chemioterapico direttamente nel tumore che funziona molto meno essonista che quando lo somministriamo per via rinosa le difendere questo per quale raccoglie che anche se viene dato in dose di copita si distribuisce secondo la sua farmacocinetica in tutti i tessuti e quando arriva al livello del tessuto che ha cellule con alterazioni di permeabilità di membrana c'è un grosso passaggio di fascia all'interno delle cellule è troporante rispetto a quelle che sono ancora integre il razio di queste due, di questo passaggio è addirittura di una miglia o una miglia che significa una gravissima concentrazione intracellulare del farmaco che può bloccare lo sviluppo di questa cellula e quindi un meccanismo di chemioterapia ultrasensibilizzata attraverso la modificazione della recettività cellulare per capire che non stiamo parlando di una cosa nuova basta dire che questo tipo di terapie in particolare l'elettrochemioterapia sono ormai, fanno parte integrante di linee media abbiamo capito che non è facile per una metodica entrare in una linea media deve passare il valore di sfludi il trial randomizzati e una serie di valutazioni che non sempre è facile produrre eppure l'elettrochemioterapia è ormai la linea di guida del trattamento di tumori così importanti come il melanoma di recedive utranie estese infiltranti della mammella di tumori del testa-collo quindi del sarcomaticato per cui è ormai una terapia che gli occologi che si occupano di questo tipo di mioplasia conoscono molto bene non avevamo ancora una grossa una grossa utilizzazione a livello di tumori solidi profondi ed è questo che dovremmo vedere in questo diciamo pomeriggio perché ormai abbiamo perso un problema ma ci siamo andati da abbastanza da anni per capire un'altra differenza della dermablazione non solo quello che produciamo al momento ma anche quello che abbiamo a distanza questa è una dermablazione valutata con una celos un anno dopo non faremo di fare tra cosa questo è un caso che avete già visto una paziente trattata a DC dopo trattamento ebbene questa distanza di un anno e vedete che a distanza di sei anni la lesione leggermente più piccola ma sta ancora per lì in una zona ormai non vitale che si riduce di poco che succede invece quando facciamo l'entroporazione? proprio perché l'entroporazione è un processo di non di distruzione ma che determina la morte cellulare in molti casi soltanto a propittosi la rimozione delle cellule danneggiate in modo irreversibile dalla sola l'entroporazione o dall'entroporazione più la somministrazione del farmaco vengono quindi dimosse dal nostro sistema immunitario e sullo stroma che è rimasto intanto è possibile in gran parte ricostruire il tessuto guardiamo qui questo grosso colaggio carcinoma di sei centimetri all'inopatico bene, dopo sono sedisi questo è quello che residua questo paziente non sono riuscito a tirarla fuori in tempo la vuole di inserire abbiamo una valutazione a 18 mesi questa scala è leggermente più piccola però rimane questo ci dice semplicemente che in ogni caso in un processo di elettromolazione c'è una gran parte della lesione che viene distrutta verosimilmente con quel meccanismo probabilmente c'è anche in parte una produzione di calore in parte un danno di sutale minimo che però produce una piccola scala che rimane solo quella dopo pochi mesi perché sei, sei, dodici mesi non sono granché rispetto agli anni in cui noi continuiamo a osservare quei buchi all'interno delle nostre fegati con questo diciamo non credo di dover attendere altro forse non c'è altro che intenderemo nel far vedere i casi perché dico casi perché chiaramente siamo parlando di serie molto ristrette da quella più numerosa e di sei casi con pazienti con trombosi portale neoplastica e quindi diciamo mi fermerei qui per quanto riguarda quello che è il processo dalla procedura eventualmente se qualcuno ha da fare domande possiamo assolutamente un po' di più vi presento un po' questi casi casi da considerare quasi anedottici perché faccio vedere questi casi anedottici prima perché sono quelli conile vive una procedura ahimè molto più costosa dell'elettro-chiameterapia perché nelle nostre condizioni nel nostro sistema sanitario come si dice influisce fortemente sulle nostre scelte sulle scelte dei nostri amministratori per cui appunto abbiamo appunto l'opportunità di poter trattare conile soltanto per i pazienti questo è uno dei pazienti vedete una metastasi molto simile a quel con l'angiomiceum che abbiamo appena visto una metastasi da color retto paziente anziano resecato in precedenza non più trattabile chirurgicamente apparentemente privo di malattia abbiamo questa metastasi è stato trattato con un'elettro-colazione vedete qui la vedete che rispetto all'ADC la lesione all'atto dell'intervento è già molto più grossa una lesione in rapida crescita vedete gli ali in visse all'interno della lesione tutto sotto guida ecografica per via per cutanea sono sei elettrodi la verifica della posizione degli elettrodi forse giustamente sarebbe stato ancora più efficace poter verificare vedete che dopo l'erogazione degli impulsi elettrici si vede già c'è il cosiddetto vascular block cioè praticamente si ha una vasopostrizione dei nasi afferenti alla lesione e si ha questa completa avascularità della lesione legata che cosa avviene chiedo scusa che cosa avviene nel momento in cui noi eroghiamo i nostri impulsi elettrici il paziente è curalizzato quindi non dovrebbe assolutamente muoversi però chiaramente risposta a queste forti scali chiedo scusa perché non parte ecco risposta a queste forti scali vedete che ha questi movimenti queste contrazioni come se stessimo disperitando il paziente sostanzialmente possiamo contemporaneamente guardarci la nostra il nostro l'effetto che fa che fa i nostri dispositivi sul tessuto con l'ecografia in tempo reale e vedete questi balzi che fa la toma del paziente in risposta agli impulsi elettrici qui è semplicemente una dimostrazione di come si fa la verifica degli anni e questo abbiamo detto prima del trattamento guardate già tre mesi si ha già una netta riduzione della lesione ahimè questo paziente ha fatto una recidiva a livello questo è un paziente io lo scuse era retto ha fatto una recidiva nella pebbica a distanza di quattro mesi dal trattamento per cui non abbiamo un follow up molto più lungo perché poi per tutta una serie di ragioni il paziente è deceduto perché ha avuto anche fistole a livello perineale insomma è stata una cosa molto brutta però abbiamo sul abbiamo del paziente le biopsie effettuate prima del trattamento e successiva del trattamento in cui quelle post-trattamento non stavano soltanto tessuto fibroso un po' più lungo e più entusiasmante è il follow up di quest'altro caso questo è un caso un po' anomalo nel senso che molti di tutti potrebbero avere molto da ridire al riguardo però perché il tumore il carcinoma seropapillare del pancreas che è tipico dell'età giovanile è un tumore che viene considerato scarsamente maligno però questo è vero soltanto nell'80-90% dei casi in un 15% dei casi questo tumore può avere un atteggiamento locale molto aggressivo e talvolta può dare anche metastasi ci troviamo in fondo una ragazza di 21 anni con un carcinoma pancreatico con completo encasement delle arterie mesenteriche e dell'arteria mesenterica con un'invasione totale della parte di state della vena sprenica quindi con una trombosi completa e di fronte a questo tipo di condizione probabilmente in un centro di chirurgia sarebbe stato possibile affrontare con delle ricostruzioni vascolari importanti si è deciso di anche per il rifiuto di questi di questi trattamenti chirurgici da parte dell'anaziente di utilizzare questa tecnica che è stata offerta questa opportunità di utilizzare l'elettroporesi irreversibile ed è stata accettata da lei e dai familiari alla presentazione aveva dolore addominale c'era questa massa per la verità non era tanto facile far farla e questo è il comportamento dei casi più aggressivi di tumore seropapillare in alcuni casi si deve si compattare per la cradioterapia e la chemioterapia l'invasione locale del poleno della milza della vena porta della vena mesenterica è possibile e diciamo ci sono anche dei criteri di non resecabilità che però con i progressi si è chiamato la chirurgia in campo pancreatico probabilmente possono essere in molti casi superati con le ricostruzioni vascolari importanti quindi per tornare invece al nostro caso ho riporto che questa ragazza da 24 anni negli ultimi mesi aveva avuto appunto dolore e nausea e perdita di peso aveva non c'erano simili pericolismo sostanzialmente una lega anemia e una iperamilasemia molto lieve non c'era granché un rio aumento del CA19.9 questa era la massa così come si vedeva all'ecografia non so se ci parte no non parte comunque questa era la massa così come si vedeva all'ecografia vedete qui c'è sulla mesenterica una stenosi un'invasione della della vina splecchia che vedete qui completamente occupata sia nelle scansioni sagittali che colonali che trasversali vedete il tronco ciriaco era completamente adiacente e un po' divaricato dalla parte della massa e questa è la la diagnosi di carcinoma pseudopatillare abbiamo offerto alla paziente pulire come alternativa all'alto chirurgico che è stato effettuato in la parodomia in open con inserzione di con quattro inserzioni di tre cinque elettrodi diciamo abbiamo iniziato con cinque elettrodi e poi abbiamo probabilmente trattato anche sei che erano forse già in parte elettropolare ma per avere siamo stati per dire estremamente aggressivi e abbiamo cercato di puntare a una radicalità questo penso che è importante perché è preferibile una volta che si è affrontato con questi tipi di sistemi una patologia di questo tipo e non limitare l'esposizione e utilizzare anche oltre quello che sarebbe già sufficiente al trattamento per poter puntare a una radicalità più sicura questo è l'immediato questo trattamento a un mese vedete che c'è già una diluzione della massa c'è quest'aria completamente ipoavascolare questa è la PET a praticamente a tre mesi la PET TC che fa vedere questo residuo che non capta questa è la la TC e la il color doppler a sei mesi la massa è praticamente scomparsa questo qui in effetti è l'esito di un piccolo ematoma che si era formato al lato della lesione trattata e c'è vedete ma perché stenotica una ripresa per vietà dell'avena sprenica il flusso turbolento dovuto all'astenosi ma c'è una ripresa netta del flusso attraverso l'avena sprenica c'è non so se verrà fuori ma c'è se è stata rotta anche e non sappiamo il meccanismo ma anche un piccolo infarto sprenico il che ci fa pensare a un'embolizzazione per qualche effetto particolare sull'arteglia sprenica durante il trattamento ma che stiamo completamente asintomatico siamo a 24 mesi questa è la la paziente è sul nuovo pancreas la vena sprenica è completamente ricanalizzata non so se questo ci parte non ci parte e adesso siamo a tre anni la paziente è passata da me ma prima di passare mi ha dato un messaggio molto bello dice lei non è nata lei è nata a macchina dice forse oggi nel giorno in cui ricorreva tre anni dal trattamento forse oggi io compreavo e quindi siamo adesso a tre anni trattamento stiamo ancora aspettando la recidiva stiamo parlando chiaramente di una patologia meno aggressiva di quello che è il carcinoma pancreatico della persona adulta anziana però voglio dire in un caso con quel impegno che avrete richiesto quel impegno chirurgico forse una metodologia del genere quando ci siano realmente degli aspetti che controlli la chirurgia si potrebbe affrontare con successi di questo tipo e questo diciamo chiude ci sono in effetti altri due casi che abbiamo trattato con IVE ma fondamentalmente ricalcano quelli che il primo aspetto che abbiamo visto che il paziente con in particolare con l'angio carcinoma in cui era una recidiva su una trancia dopo resezione di una dopo l'operitomia sinistra cosa che è stata fatta nel forse quello che viene ritenuto l'ambiente più accreditato in Italia stiamo parlando chiaramente del centro di rinunzio e giuliano e all'atto dell'intervento era già stato comunicato ai familiari che purtroppo non era stato possibile fare un atto radicale la paziente aveva una recidiva di 10 cm sulla trancia e aveva un'infiltrazione gastrica non riusciva ad alimentarsi abbiamo fatto un IVE che durava degli odottori nastro in open per che durava almeno 4-5 ore facendo 9 infissioni di multicoleptodi la paziente ha ripreso a mangiare ha fatto tranquillo questo è avvenuto all'inizio dicembre e ha ha fatto delle bellissime feste e analizie un'ottima periodo pasquale è stata benissimo splendidamente fino a maggio di quest'anno ha fatto poi una recidiva puntimetà statica a giugno è venuta a pranzo qui in Costiena mi piace parlare di queste cose che io scusa se mi metto a descrivere questi particolari però sono particolari importanti sono pazienti in cui sapete che non avrete la radicalità però aver regalato e credo che sia così 7, 8, 9 mesi di una vita assolutamente con buona qualità di vita a una paziente di 44 anni con due bambini piccoli penso che è un regalo che chi fa il nostro mestiere è una bella cosa passiamo invece adesso a qualcosa di più organico perché di più organico avendo a disposizione questo tipo di dispositivi ci si deve chiedere chi possiamo trattare non siamo credo autorizzati a trattare pazienti che hanno altre opportunità terapentiche e per cui chiaramente abbiamo scelto in prima istanza pazienti che non hanno nessuna possibilità di trattamento se non il sorafelib che in ogni caso non è escluso dalla possibilità di trattamento e sono i pazienti con trombosi portale da epatocarcinoma albibopatica nel senso parliamo dei pp3 e del pp4 cioè localizzazione alla fine portale ebrache portale la trombosi portale cerco di correre un po' perché siamo in tempi stretti la trombosi portale ricorre in una grande quantità di pazienti con epatocarcinoma la resenzione epatica come pure la rafface la radioimportazione e la la radioterapia sono scassamente efficaci può essere proposto la radiofrequenza delle microonde e anche assedito che possa essere di fare una cosa del genere nella porta ma è estremamente rischioso fare questo perché si possono avere danni diversi a piliati ad artetti e per cui bisogna cercare assolutamente per poter trattare con un'ablazione questi pazienti cercare un'ablazione non termica perché il calore può danneggiare la continua in testa l'elettrovolazione nella nostra intenzione e dalla nostra opinione poteva essere utilizzata in questi casi proprio per il rispetto dello stroma e quindi delle palcature coltivate degli albini e dei vasi portali dei vasi arteriosi facevano sì che questo poteva essere una metodica che forse si poteva indicare in questi pazienti attraverso il consenso informato chiaramente molto articolato in un paziente che non aveva nessun'altra opportunità terapetica abbiamo selezionato una serie di pazienti sei pazienti che sono stati avvolati e sono stati trattati in modo consecutivo abbiamo cominciato a dicembre 2014 e diciamo l'ultimo paziente è stato trattato a maggio di quest'anno come avviene il trattamento vedete infissiona uno schema di come avviene l'infissione il trattamento vedete non è molto differente da quello che avete visto prima vedete appunto l'infissione degli albi degli elettroli ai margini del trombo neoplastico e gli scatti della parete addominale del paziente legati all'erogazione di questi corsi elettrici a livello che lo scusa qui vediamo appunto la trombosi portale che origina proprio all'articolcazione del trombo portale di destra è un trombo vascularizzato all'accesso guardate come prende contrasto e questo per definizione è un trombo neoplastico è stata effettuata anche la biopsia che prova la natura da epatocarcinoma ecco questa è la biopsia che viene effettuata e che ha provato a trattarsi di appunto di trombo dell'epatocarcinoma se ci fosse stato qualche dubbio visto quella CEUS infatti la prima cosa che mi ha risposto uno dei leguersi del lavoro che è in corso di pubblicazione ha detto ma il caricatore basta affastare per se quando fanno studi si fa anche gli elettroli a margine della trombosi l'erogazione il vascular block lo presenti già immediatamente con la CEUS la CEUS è in questi casi molto utile perché il vascular block è già a distanza di 12-24 resta ripetendo la CEUS c'è ripresa della vascularizzazione che vi fa capire che state facendo qualcosa di molto diverso dalla termoablazione e questo è il trombo prima del trattamento questo è il trombo questo è il vaso a tre mesi c'è una perfetta ricanalizzazione e questo è l'aspetto vedete alla TAC questo è il trattamento c'è una ripanalizzazione completa del vaso questo è un paziente che in questo momento sta a due anni di formato ha fatto due recidili a distanza una è stata adattata con termoblazione un'altra è stata adattata con elettrochemio della via perché abbiamo cominciato avendo avuto la possibilità di trattare il paziente per una trombosi portale abbiamo chiesto all'Igene di fornirci un dispositivo per poter trattare anche quello che si sarebbe probabilmente dovuto trattare con termoblazione ha risposto benissimo in questo momento siamo a due anni ma soprattutto la cosa più importante è che non ha recidilato a livello del trombosi questo è un altro caso vedete trombosi portale completa da della carcinoma prima e dopo in questo caso la ricanalizzazione è stata solo parziale ma fatto sta che non c'è recidilio a livello del trombosi portale questo però è un paziente che poi ha decidito a 14 mesi di follow up per una moraggia della pareccia sovagenica però i miei 14 mesi non ha fatto recidilio a livello del trombosi questo è l'aspirato dell'altro gruppo portale prima del trattamento in quel primo caso che abbiamo visto e questo è dopo il trattamento è un listologico perché mi piace farvi vedere questo perché è molto importante secondo me perché fa vedere almeno questo è quello che io non sarei in grado di capirlo ma l'atropatolome ha descritto questa cosa è la materia guarda qui vedi il tumore è completamente o necrotico o busta delle serie di apoptosi necrosi apoptosi apoptosi mentre però se guardi l'endotelio e la parete vascolare è perfettamente integra quindi a me ho queste metodologie almeno in teoria sono di una precisione non chirurgica molto di più diciamo che in questo caso la chirurgia sarebbe teoricamente un po' grossolare rispetto alla l'endotelio in terapia che invece è una precisione di tipo biologico speriamo che questi dati siano confermati questi sono i dati che abbiamo che sono in pubblicazione e mi riferisco con questo follow up non ci sono state recidive locali a livello del tronco abbiamo avuto delle recidive a distanza che sono state trattate tre altre recidive a distanza di cui i due casi sono state trattate questo è un caso in cui abbiamo inserito tre elettrodi lungo il percorso per la trombosi nella branca destra tre lungo la trombosi nella branca sinistra faccio vedere questo caso anche se siamo nella conclusione di questa casistica perché questo è un caso che ha fatto poi forse perché era bilaterale forse perché probabilmente c'erano altre condizioni ha cominciato a fare malgrado la necosi completa del trombo tumorale ha cominciato a fare una trombosi vascolare prossimale a livello della venata tutta abbiamo anche utilizzato la figlia del paziente che abbiamo comportato un aumento del trattamento eparinico fatto sta che avendo una gastroscopia con varice e stridure prima del trattamento il paziente ha cinque settimane l'abbiamo perso a follow up per l'emorragia da parisofage che è stata letale quindi rimane se sono in un trattamento probabilmente sufficientemente sicuro sicuramente efficace ma sul paziente 10-12 bisogna stare attenti perché probabilmente l'emorragia da parisofage può stare sempre dietro l'angolo come normale complicanza di un paziente centromico soprattutto quando vanno l'intervento di lungo anche l'emorragia è un'esperienza comune anche di chi fa vascolare sui pazienti 10-12 che questa complicanza almeno momento in cui si va da chiudere un vento vascolare può avvenire passiamo all'ultima informazione è quella sulla casistica sul colangio carcinoma e questo è proprio per quello che appena detto probabilmente è un'indicazione che ci piace un po' di più trattare un paziente citotico con trombosi portare l'ecotocarcinoma probabilmente ci dà più problemi e meno soddisfazioni in termini di radicalità e sopravviene se il colangio carcinoma forse si può comune di tumore dell'ecoterapia in particolare il colangio carcinoma potrebbe essere un'indicazione per questo tipo di trattamento molto più importante non mi soffermo troppo diciamo la termoablazione sicuramente non si può fare sul colangio carcinoma dell'epatico anche se qualcuno l'ha proposto l'elettrocorazione trova quindi indicazione abbiamo trattato da aprile 2015 a giugno 2016 5 pazienti il polo apre molto come dire molto poco equilibrato perché abbiamo trattato il primo paziente appunto a aprile 2015 prima di decidere di trattare la terza è passato un po' di tempo e diciamo che abbiamo ripreso a trattare quasi a distanza di un anno quindi abbiamo un paziente con un gruppo follow-up e altri con un follow-up di diversi mesi e chiaramente il paziente non prese capire con gli agnosi storici di un vaccinoma c'erano alcuni criteri da rispettare e la in c'è in quattro questa questa descrizione era uno dei pazienti che lo sposa con un'automobile di realtà c'erano c'erano soltanto due pazienti che avevano un vero e proprio claschina con inter-epidrazione dei biliari bilateralmente un paziente con inter-epidrazione di sinistra e iniziale infiltrazione della confluenza biliare e due pazienti che non erano interici questa è la descrizione al punto dei casi c'era un caso in cui era stata fatta una laparotomia e con una resezione e è stata fatta una resezione più un ECT perché arriva un altro numero al quarto segmento e c'erano pazienti che erano stati precedentemente resecati questi sono risultati abbiamo avuto una necrosi completa all'imagine di tre pazienti e una necrosi sudotale in altri due pazienti non c'è stata alcuna complicanza importante abbiamo avuto una recidiva in due pazienti in tutte e due qui in Italia abbiamo fatto una necrosi sudotale non abbiamo avuto alcuna recidiva al follow up dei pazienti invece dice che non stai trattati in modo completo nessuna complicanza importante ma un restamento prevo di un paziente alla TAC appunto a quattro settimane necrosi completa in tre casi vi faccio vedere il caso del paziente che ha il follow up più lungo ovviamente avete già visto il TAC per mostrare come si comporta l'elettrovolazione questa è una TAC del paziente che è fatta a gennaio 2015 il paziente fa ad aprile 2015 una risonanza che mostra un netto incremento della della massa e questo è poco prima del trattamento che è stato un ulteriore incremento della massa molto rapido nel tempo qui è fasiato con malattrocarcinoma questa è la CEOS del paziente e qui vedete la deposizione di il diavo elettrico all'interno della lesione il paziente è stato fatto in open anche perché è stato trattato quello all'idepatico infiltrante con l'elettrovolazione è stata resegata dal dottore Nasti invece un altro modo di malattrocarcinoma al quadro sequente questa è l'istologia pre-trattamento questo è l'aspetto di CEOS di post-trattamento questo è l'aspetto CEOS a distanza di 3 mesi vedete la netta riduzione la valutazione a 6 mesi è quella che vedete quindi ripeto adesso il paziente ha di 100 mesi in vista della malattia all'idea di 1 perché vi dico questo perché proprio per non è un paziente che fa la biopsia quindi semplicemente per sapere come stanno le cose la cosa che avete trattato è quella piccola cicatrice l'opportunità me l'ha dato un po' e la semplici ragione è che questo paziente ha più o meno di polmonare che sono stati capitati come metastasi dato l'anticarcinoma e l'oncologo mi ha chiesto di sapere questa piccola scarpe che c'è a livello epatico se era ancora residuo di malattia perché riferiva che c'era qualcosa che cambiava nella sua strategia della pedica e mi ha chiesto di fare la biopsia quindi ho avuto questa opportunità autorizzata da un'indicazione terapeutica questo è il risultato l'antopatologo ha descritto soltanto fibrosi non c'è una cellula tumorale in questo frusto prelevato da questa zona residua grazie a tutti